Bene amici di Solo Dettagli e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho il piacere di parlarvi per la prima volta della EB210, ovvero della lucidatrice a batteria della Shamemate. Una macchina che si è rivelata davvero eccezionale e nel corso di questa recensione capirete sicuramente perché. Ora, cominciamo a vedere le caratteristiche di massima di questa macchina. È una macchina molto piccola in realtà, circa 25 cm con platorello e batteria montati, quindi molto molto maneggevole. Come forma ricorda un po' la FlexPXE, però qui abbiamo dei vantaggi, ovvero non abbiamo più quella grossa batteria nel retro che poteva creare dei problemi di maneggevolezza. A livello di potenza è devastante, probabilmente la lucidatrice a batteria è più potente sul mercato in questo momento. Veramente una cosa che se non l'ha provata non vi rendete conto di quanto va questa macchina. Rimane, perché questa affermazione va un attimino contestualizzata perché altrimenti sembrerebbe che sia la macchina migliore e io vi dico sempre, la macchina, il prodotto migliore non esiste. Rimane un difetto in effetti, ovvero una testa così grande potrebbe creare dei problemi. Con una testa di una certa dimensione, di un certo ingombro, magari in determinate forme non ci arrivi. Quindi io starei molto attento a dire che è la migliore. Per esempio, se noi la confrontiamo con una Rupert, guardate che differenza c'è di testa. Chiaramente con questa ci si infila molto meglio, però poi questa è decisamente meno potente. Quindi vanno fatte delle valutazioni. La macchina perfetta non esiste, ma probabilmente esiste la macchina perfetta per uno specifico utilizzo. Torniamo a noi, quindi, tecnologia brushless senza spazzole. Questo vuol dire meno manutenzione, più potenza, più efficienza, meno consumo di batteria. E vi posso dire che la batteria mi ha stupito. Si può usare quasi in continuo. Cosa intendo? Diciamo che io ci ho fatto svariate prove. Ce l'ho questa qui da circa 4 mesi. E vi posso dire che si può utilizzare quasi continuamente, ovviamente contemplando un cambio continuo di batteria. Se non per un piccolo problema. Allora, quando usi la macchina ad una certa potenza, quindi al massimo, le batterie, essendo agli ioni di litio, si scaldano. E il caricabatterie, che all'interno ha chiaramente un BMS, un Battery Management System, ovvero un cervelletto che controlla le batterie, si rende conto, se la batteria è molto calda, che non è il caso di caricarla. Perché potrebbe andare a fuoco. Qui stiamo sempre parlando di batterie agli ioni di litio, che quindi hanno una certa pericolosità. E quindi vanno gestite in una determinata maniera. Ecco perché abbiamo dei caricabatterie particolari, anche voluminosi. Perché all'interno c'è anche l'elettronica che controlla tutto questo. Quando ci troviamo in questa situazione, ovvero quando le batterie si scaldano, il caricabatterie aspetta prima di far partire la carica. In queste situazioni potrebbe succedere, magari quando è anche caldo fuori, che non riusciamo a far girare costantemente le batterie. Quindi diciamo che in casi estremi potremmo doverci fermare, usare un'altra lucidatrice, magari gestendo zone più grandi, e poi ritornare sulla macchina. Però poco male, perché in realtà anche su questo si è dimostrata la lucidatrice migliore, perché ha un ottimo consumo della batteria, e il caricabatteria le carica molto forti, insomma. Quindi è possibile quasi lavorare in continuo. Guardiamo anche un attimino le caratteristiche estetiche e di ergonomia. Allora, sul retro della macchina, quindi quello che noi ci troviamo frontalmente quando la guardiamo, c'è una sorta di display che ha il tasto di accensione. Noi teniamo premuto per 3-4 secondi, la macchina si accende e ci mostra sia lo stato della batteria attraverso il primo LED, sia attraverso gli altri 3 LED a che velocità stiamo andando. Tasto più e meno per la regolazione della velocità è il tasto LED. Il tasto LED, quando lo premiamo, accende un LED frontale, che a mio avviso è abbastanza inutile, o meglio, se l'idea era quella di illuminare la parte lucidata, e quindi vedere gli swirl, funziona sì, ma solo quando il pannello è leggermente concavo, perché se siamo su un pannello piatto, il LED non fa altro che illuminare leggermente la zona circostante. Quindi, a mio avviso, forse è meglio tenerlo spento a tutto vantaggio della durata della batteria. Come si fa ad accenderla? Allora, abbiamo due modalità. Una volta accesa, o teniamo premuto il tasto, quindi qui abbiamo un grilletto, vedete dove è il mio indice, e quando lo lasciamo la macchina si ferma, o facciamo un doppio clic, e la macchina si accende, poi basta un'ulteriore pressione sul tasto per spegnere la rotazione. Quante velocità abbiamo? Allora, adesso ve la metto al minimo per farvelo sentire. Così, e al minimo, la facciamo partire. Uno, due, tre, quattro, cinque, e sei. Quindi abbiamo sei livelli di velocità. Che regimi di giri abbiamo? Abbiamo 3.8.000. Ecco che qui, secondo me, è la caratteristica che rende davvero speciale questa macchina, perché 8.000 orbite per minuto sono tantissime, ed è probabilmente per questo, unito poi alla tecnologia brushless, che ha reso, queste caratteristiche hanno reso questa macchina estremamente potente, soprattutto in confronto alle dimensioni. Passiamo al movimento. Questa è una rotativa, una rotorvitale, può diventare quello che volete. Infatti qui abbiamo dei meccanismi, non so sinceramente come chiamarli, delle teste, che possono essere sostituiti per far diventare questa lucidatrice rotativa, rotorvitale, o addirittura una carteggiatrice. In pratica abbiamo due pulsanti di sblocco che noi dovremmo tenere premuti, lo faccio con la mano destra, poi magari vi faccio una macro, teniamo premuti, giriamo in senso anti-orario di circa un ottavo di giro, cioè una baionetta, e sfiliamo il meccanismo. Quindi ci troviamo tra le mani un aggeggio di questo tipo. Ora, cosa carina, noi abbiamo a disposizione un meccanismo per orbita da 12 mm, poi abbiamo, ve lo prendo dalla confezione aperta, questa è la mia personale, due meccanismi in dotazione per il movimento rotatorio, vi direte due, perché? Perché noi abbiamo due sigle, Rho-L e Rho-L-hex. Cosa sono questi due meccanismi? Allora, uno è una sorta di presa diretta, ovvero i giri della macchina sono sostanzialmente gli stessi di quelli trasmessi al protorello, quindi questo sarà un meccanismo rotatorio ad altissima velocità, quindi teoricamente possiamo arrivare a 8000 giri, visto che lì ci sono 8000 orbita, ok? Tantissimo, poi vedremo le differenze. Mentre questo qui abbiamo un meccanismo con le ridotte, direi, in un certo senso, quindi avremo un sostanziale rallentamento del movimento rotatorio a tutto vantaggio della coppia, quindi questo sarà un metodo di trasmissione a bassa velocità a tanta coppia, quindi possiamo effettivamente montare un platorello anche abbastanza grande, proporzionato ovviamente alla macchina, e tagliare forte, anche facendo una certa pressione, la macchina non si spegnerà. E questo sinceramente è una bella idea. Poi qui vedrete, vedete, due pacchettini, che questi sono degli accessori, sono meccanismi roto-orbitali che si possono comprare a parte, uno da 3 e uno da 5. Quando è che si usano? Quando dobbiamo carteggiare, quindi chiaramente questi sono opzionali, perché potrebbe anche non essere necessario, o non essere il nostro progetto, carteggiare con la nostra macchina. Guardiamo poi qualche altro pezzo, abbiamo in dotazione il nostro caricabatteria, che ospita due batterie, è un bel sistema molto evoluto, con delle ventole interne che raffreddano il sistema, e quindi consentirci una rapida carica delle batterie, e attraverso i led possiamo capire che cosa sta succedendo. Led rosso, temperatura alta, dobbiamo aspettare. Led lampeggiante si sta caricando, led fisso verde, batteria carica. Aprendo la valigetta, perché in dotazione abbiamo una bellissima valigetta in plastica rigida, che può essere un ottimo sistema per portarci dietro questo materiale, troviamo una marea di tamponi. Non facciamo la recensione di questo, non facciamo l'unboxing, sennò finiamo dopo domani. Sappiate che qui dentro ci sono tipo una cinquantina di tamponi, con i cilindretti, conettini, tamponi di diversi diametri, varie tecnologie, spugna, microfibra, lana. Trovate un po' di tutto per poter cominciare ad utilizzare la macchina. Un breve commento sulla qualità. Adesso non è che questi tamponi fanno schifo, ma non sono neanche di eccellenza qualità. Una spugna classica, celle aperte, non si sono comportati neanche male, perché alcuni di questi nella confezione li ho provati e sui montanti sono andati benino. Diciamo che non voglio fare un approfondimento in questo caso, perché non ci serve. Diciamo che possiamo scegliere questi o possiamo prendere altri tamponi. Vedete, non apro le buste, ma abbiamo anche dei coni molto grandi per lucidare magari sotto le maniglie. Li metto da parte, perché? Perché voglio assicurarmi che nella valigetta rimangano i pezzi che vi voglio descrivere adesso. Allora, scusate, ho liberato un po' la valigetta, tantissimi tamponi che ci sono in giro, ogni tanto ne scappa fuori in altro, va bene? All'interno cosa ci rimane? Le due scatole per le batterie, che chiaramente una volta usate possiamo decidere di buttarle e di liberare più spazio possibile all'interno della nostra valigetta per ospitare prodotti e tamponi. Prendiamo questa chiave, che questa è una chiave a mio avviso fondamentale, per farvi vedere una cosa, e questa è un'altra sciccheria di questa macchina. Allora, ad ogni meccanismo possiamo associare un determinato numero di platorelli. Come? Allora, cercherò di farvelo vedere, anche se in realtà questa è una cosa che se no la vedi di persona non la capisci. Anche il platorello si fissa al meccanismo, che sia rotativo o rotorbitale, per mezzo di una sorta di baionetta. Quindi, che cosa facciamo? Noi dobbiamo premere il platorello dentro il meccanismo e fare circa mezzo giro. In questo modo il platorello rimarrà solidale e non si sviterà rispetto al meccanismo. Cosa bella? Noi possiamo avere un certo numero di combinazioni. Per esempio, adesso prendo il meccanismo rotorbitale da 12 mm, ci metto la chiave dentro solo per bloccare la rotazione, perché non essendo rotativo non lo potrei bloccare. Faccio il mezzo giro ed ecco che il mio platorello si sgancia. Vediamo in dotazione cosa abbiamo, che così vi faccio capire meglio questo dettaglio che è importante. Allora, noi nella confezione, sperando di non averne persi alcuni, abbiamo a disposizione 5 platorelli. E qui c'è uno strano aspetto che poi dovrò verificare. Vi dico le dimensioni. Allora, il platorello più piccolo è circa un centimetro, poi ce n'è uno da circa tre, un altro circa tre, quello che cambia è il sistema di fissaggio, ora ci arriviamo, 50 mm e 63 mm. Allora, io posso montare alcuni platorelli, quelli con la baionetta, sui meccanismi che ospitano la baionetta. So che è un po' difficile da spiegarlo a parole, ma capirete velocemente perché esiste questa discriminante. Perché alcuni platorelli sono fatti in un modo e altri no? Perché in sostanza noi sul meccanismo rotatorio ad alta velocità abbiamo poca coppia, non ci possiamo mettere i platorelli grossi perché farebbe troppo attrito, troppo sforzo, la macchina si ferma. E infatti noi il platorello grande, quello destinato ai tamponi da 75 mm, non lo possiamo montare. Perché? Perché a differenza degli altri che hanno questo meccanismo, lo vedete, in alluminio, che ospita questo fissaggio a baionetta, qui abbiamo un semplice filetto. Che cosa vuol dire? Che noi praticamente possiamo montare solo alcuni tipi di platorelli, quelli che ospitano il filetto. Per esempio in questo caso il platorello da 3 pollici, posso montarlo semplicemente avvitandolo e vado tranquillo. Cosa bella, in dotazione noi troviamo anche delle prolunghe. Vi dico, visto che ho il metro qui con me, vi dico anche le lunghezze. Abbiamo la lunghezza in dotazione da 4 cm, abbiamo quella da 8, che io sinceramente ho provato anche ad abbinare insieme, quindi otteniamo una bella prolunga da 12 mm. A questa, questa la possiamo fissare al nostro meccanismo. Vi faccio vedere anche fissato la macchina. Per fissarla dobbiamo trovare il punto giusto indicato dalla freccia. Premiamo le alette. E facciamo il nostro ottavo, un quarto di giro. Quindi abbiamo la macchina che, adesso la accendo, vi faccio vedere. È accesa. Vedete quindi che è possibile montare una prolunga di questo tipo con un platorello anche microscopico, uguale da un centimetro. Quindi noi montiamo un attrezzo di questo tipo, ci mettiamo un bel tamponcino in spugna e ci andiamo a lucidare, per esempio, le maniglie. Questo è sostanzialmente un attrezzo chirurgico. Ci si arriva veramente dappertutto, montato in questo modo. Chiaramente, invece, laddove la coppia aumenta, quindi quando abbiamo il meccanismo a bassi giri e tanta coppia, possiamo montarci anche i tamponi, i platorelli grossi. Quindi vedete, in questo caso ho montato il platorello da 63 mm. Per ospitare i tamponi ve li faccio vedere da 75 mm, ok? Smonto il meccanismo ad alta velocità, monto quello a bassa coppia, ad alta coppia, scusate. Cerco con gli occhi la freccettina, giro, ed ecco che io ho a disposizione Una macchina che è una rotativa, ha tantissima forza, anche se ha un regime di giri inferiore. Penso di aver detto tutto, ragazzi. Altri attrezzi, ci sono altre chiavi che al momento non ho utilizzato. La caratteristica che rende speciale questa macchina, a mio avviso, è la potenza. Pur avendole avute tutte, come sapete, tutte quelle sul mercato in mano, questa mi ha scioccato. Ci ho fatto praticamente una macchina intera, cambiando costantemente le batterie. Ha fatto fuori tanti tamponi, nel senso che l'ho stressata tanto e li ha polverizzati, ma lei non ha fatto una piega. Non ha mostrato surriscaldamenti, ho lavorato con la temperatura esterna in quei giorni di 22-23 gradi, non temperature proprio estive, però la macchina non ha mostrato il minimo segno di cedimento. Semmai sono andate un pochino sotto sforzo le batterie, che si sono leggermente scaldate, il caricabatterie se ne accorgeva e quindi doveva aspettare un tot di minuti che la temperatura si abbassasse. Ma non lo considererei sinceramente un difetto, perché è una cosa ovvia e si può verificare in tantissimi dispositivi, tantissime lucidatrici. Quindi, opinione estremamente positiva riguardo questa macchina, avrà un costo non bassissimo, perché abbiamo a disposizione un kit molto completo. La macchina è prestazionale, si adatta a tantissime circostanze, quindi considerando i tre meccanismi di dotazione, è una macchina che ci potete fare di tutto, lucidatura, ci vedrei bene la lucidatura dei fanali, la lucidatura delle motociclette, insomma ci facciamo tantissime cose. Quindi, anche se il prezzo non sarà bassissimo, sarà comunque concorrenziale sul mercato e sicuramente sarà un prodotto da acquistare. Se non ho risposto ad alcuni vostri dubbi, non esitate a farmi delle domande qui sotto nei commenti, sarò a vostra disposizione per soddisfare la vostra curiosità. Grazie della visione e arrivederci al prossimo video.